Grazie a tutti. Quindi se c'è il classico gelato che gira, è loro. Una o due palle le facciamo. Riflessione. Sì, la mia riflessione che volevo portare a tutti è che a volte appunto la concezione del sapere viene stravolta perché appunto si pensa che la semplice lezione può cambiare il modo di pensare di tutti. Però a volte non avviene questo. Quindi quello che volevo dirvi è che a volte anche nell'educazione cinofila ci sono tanti metodi educativi e addirittura anche addestrativi che si utilizzano nei confronti dell'animale. Io spuso molto questo modo nuovo di educare divertendo perché è più o meno la base di quello che faccio anche io oltre che appunto in un ambiente scolastico, quindi interfacciarmi con un cospecifico che sarebbe l'essere umano, ma è quello che anche faccio con l'eterospecifico, quindi con il diverso, soprattutto quindi con l'animale. Ed è il principio molto semplice, simile a quello che stava spiegando Ruggero prima. Appunto, nella cinofilia bisogna capire bene che anche in genere a volte l'uomo cerca di avere sempre una proiezione del sé gigantesca, quindi è molto antropocentrico e cerca sempre di mettersi al di sopra di tutti gli animali perché appunto è forse l'unico che si è evoluto secondo appunto delle necessità proprie in un determinato modo e quindi ha sviluppato delle capacità differenti dagli altri e questo gli permette appunto di giudicare tutti gli esseri viventi. Però a volte non è così, non è così, non a volte, togliamo a volte, perché appunto ogni animale, ogni essere vivente si caratterizza nella sua specificità, nella sua singolarità. Quindi ogni specie si sviluppa, si evolve secondo appunto l'obiettivo e le finalità che vuole raggiungere. E così è soprattutto il mondo della cinofilia, il mondo di tutti gli animali. E a volte utilizzare un pensiero antropocentrico nei confronti degli animali va a deteriorare soprattutto il rapporto che si vuole iniziare con loro. Ma principalmente mi ritorno al discorso che faceva prima Ruggero in ambito della specializzazione che ovviamente ogni essere umano poi porta a compiere nel suo percorso ontogenetico. E appunto, come diceva lui, quando si entra in un bosco e si porta, che ne so, un laureato in lettere, dai qui ce l'abbiamo presente, e portiamo anche un ornitologo, sicuramente il laureato che non ha nessuna base dell'ambiente del bosco boschivo magari sentirà soltanto un rumore di fondo. Ma magari invece lo specializzato ornitologo ti ascolterà tutte le sfumature dei colori, dei cantiti, di tutti quei 1500 uccelli che ci stanno presenti. Quindi ovviamente se io voglio permettere, secondo un mio pensiero personale, uno scambio di competenze tra me e l'altro, che può essere sia lo stesso essere umano che l'animale, bisogna appunto riuscire a trovare una mediazione, un punto di incontro e mai mettersi al di sopra. E infatti come diceva prima anche Ruggero, per quello che ha detto sui croccantini, io e l'obiettivo finale, è quello appunto della vecchia cinofilia, il biavorismo più che altro, perché si basa soprattutto sul dare, cioè vedere il premio come obiettivo. E quindi il cane ovviamente non riesce a differenziare, non riesce ad essere autonomo e riflessivo. Quindi di conseguenza farà di tutto per arrivare a quell'obiettivo al premio e poi non capisce realmente l'importanza del sedersi. Quindi che ne so, per un giusto approccio che sarebbe quello che ovviamente io utilizzo, ovviamente il mio parere e il mio modo di vedere la cosa, ovviamente riuscire a rendere l'animale riflessivo e indipendente è alla base della convivenza, quindi perché ora ovviamente si sta trovando, cioè sempre più gli animali cercano di entrare nella vita sociale e renderli indipendenti è il passo e il cambiamento culturale di cui appunto parlava prima Ruggero. Ovviamente l'uomo è sempre in evoluzione e ogni volta, anche quello che sto dicendo io, magari domani potrebbe essere smentito con una teoria molto più rivoluzionale ed evolutiva. Però quello che volevo dire è che l'apprendimento che si basa, che ovviamente penso che vedremo i processi tra un po', che magari noi teorizziamo sull'essere umano, non dico che potrebbe essere utilizzato allo stesso modo con l'animale, perché ovviamente ci sono canali di comunicazioni differenti, però l'importante è riuscire a capire che anche l'essere vivente che ci sta di fronte è un essere pensante che di conseguenza darà delle risposte in base alla situazione in cui si trova, quindi ovviamente bisogna sempre avere un margine di apprendimento anche sulle altre specie e quindi si può notare soprattutto anche quanto si può imparare da loro ed è quello che poi insegno io a scuola con i bambini. Ok, io ho detto quello che ti ho detto prima. Faccio solo due specifiche. Ah, la prima è che secondo, cioè, è proprio solo una sottigliezza, ma il laureato in lettere e l'ornitologo che entrano in un bosco, probabilmente il laureato in lettere sente la letteratura e l'ornitologo sente le differenze del canto, probabilmente, poi magari il laureato in lettere ha letto tanta letteratura, tanto da riconoscere anche le differenze, però sente la letteratura, cioè la sua esperienza è fondata su Salgari, Kipling e... No, no, eravamo nel bosco, eravamo nel bosco, esattamente, e non eravamo su un libro. Però lui la ricollega a quello? Ah, sì, sicuramente. Ok, esatto, è la sua lettura del mondo. Sì. È la sua visione del mondo, è la letteratura, proprio restringendo un po'. L'altra cosa interessante è che, rispetto agli animali, è il portare se stessi sugli animali, cioè, è il trasformare gli animali, umanizzare gli animali. E questo, in realtà, lo facciamo anche con gli altri esseri umani, cioè trasformare gli altri esseri umani in noi, no? Renderli specchio di noi stessi, e quindi considerare gli altri esseri umani identici a noi stessi, e quindi procedere rispetto a quello che noi pensiamo essere la forma giusta. Ora, non è che vi dico di fare l'opposto, però di tenerlo presente, che quindi noi ragioniamo da adulti, con una serie di costruzioni, anche ambientali, che hanno determinato il nostro essere adulti, e spesso lo trasportiamo, questo nostro essere adulti, su un bambino che ha un altro contesto, è un altro periodo di sviluppo. Punto. Se vuoi? Sì, allora. Allora, quello che chiedevo a Ruggero durante la pausa era se era possibile avvicinare, o se era positivo, più che possibile, avvicinare i bambini al mondo della natura, prendendo in specifica il caso del progetto che noi stiamo organizzando come associazione, attraverso un mezzo particolarmente abusato però per i bambini, che è quello dei cartoni animati. Ovviamente i cartoni animati non intesi in quanto spazio, cioè in quanto lasciati vicino alla televisione, perché non ci si può occupare di loro, ma cartoni animati visti, guardati, che possono diventare un modo per sensibilizzare il bambino a quello che è l'ambiente naturale o l'ambiente animale. E quindi chiedevo un parere più alto in questo caso, perché magari anche essendo educatrice ho i miei dubbi, quanto può essere positivo appunto per un bambino arrivare a essere sensibilizzato da un cartone animato quando il nostro obiettivo come progetto è allontanarlo appunto dalla tecnologia abusata e riportarlo in quello che è un ambiente naturale sperimentato in prima persona. Ruggero mi ha detto di parlare con Michele, dato che comunque avevano la stessa idea al riguardo. O chi per lui, nel senso, chi lavora nel ramo. Nel senso che io ho una mia idea e poi ve la dico, ma magari ce ne sono altre, quindi chi vuole intervenire interviene su questo tema. Ecco, scusami, se vuoi. Eh vabbè, la presentazione la faccio io, la fa Valentina. Rapidamente in 140 caratteri. Ok, sì, sono un educatore cinofilo e sono un operatore in zontropologia assistenziale, riferito appunto, la zontropologia sarebbe quella materia che insegna ai bambini e ai ragazzi il rapporto tra l'uomo e l'animale e le varie valenze che appunto ne comporta. E tutto concentrato con un metodo innovativo che sarebbe quello cognitivo zontropologico, appunto quello di, è un metodo appunto basato su vari concetti che più o meno sono quelli che ho detto prima. E quindi, non so, devo rispondere alla domanda di Valentina. Ok, allora, per me lei mi ha parlato di questi due cartoni animati che avevo intenzione di far vedere ai bambini e ovviamente io credo che... Magari diciamo quali sono, così... Sì, allora uno è di una formica, è di un bambino che è sottoposto a bullismo e per vendicarsi, diciamo, per uscire fuori da questo problema che sta stupendo si sfoga il suo odio contro gli animali ed è una cosa molto frequente perché di solito molti bambini appunto sfogano questo abuso su altri esseri magari più piccoli e indifesi come sono gli animali. Vi dico soltanto una cosa che l'altro giorno a Giovinazzo è stato buttato un gattino da questa specie di bullo nel mare quindi giusto per capire quanto la demenza umana a volte va a coincidere con appunto queste problematiche. Quindi il mio suggerimento è che ovviamente poi questo bambino viene trasformato in formica e vede la realtà dal punto di vista delle formiche e credo che sia molto positivo però a volte secondo me secondo la mia esperienza secondo il mio modo di pensare quindi secondo la mia autenticità individuale io credo che potrei anche non utilizzare il cartone animato potrei utilizzare delle immagini mute magari dove si sente la natura dove si vede l'ape che va a impollinare tutti i vari fiori e magari qualcuno può spiegare cosa succede perché il bambino è attratto comunque cioè l'animale è suscitato davvero un certo appeal nei confronti del bambino e sta sempre stupore quindi per me non è importante attuare un ricalco e guida quindi che ne so se i bambini sono interessati al cartone animato li faccio vedere il cartone animato in quel momento magari se posso ritenerlo opportuno e se riesco a trovare il materiale giusto posso utilizzare un filmato magari un documentario muto e io spiego cosa succede e vedrai che si avrà lo stesso diciamo la stessa attenzione e lo stesso stupore anzi lì viene anche salvaguardata l'individualità della specie dell'animale quindi si evita appunto sempre di antropomorfizzare l'animale e quello che di solito succede che ne so la Disney prende lo stereotipo di Topolino di Paperino lo fa parlare lo fa giocare ovviamente sì è un successo straordinario però quello che ne va di mezzo poi è l'animale e la sua individualità altre idee? se posso chiederti in che contesto vorresti strutturare questo tipo di proiezione ambiente chiuso o ambiente aperto? allora la proiezione sarebbe allora la proiezione sarebbe in un ambiente chiuso però ovviamente tutto il progetto si svolgerebbe comunque all'aperto cioè il nostro obiettivo è quello di sviluppare un vero e proprio orto con i bambini quindi ogni bambino pianta le proprie piante le fa crescere e ci sono altri 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 esperti che poi vengono a spiegare quello che è il compostaggio la germinazione quindi non c'è soltanto il il cartone animato fino a se stesso in questo caso Michele mi ha dato anche un buon un buono spunto per svilupparlo in maniera diversa però dico tutto il progetto è sviluppato nel terreno con le piante con gli alberi e soltanto questa parte eravamo indecisi come associazione se appunto fare questa visione del cartone animato oppure no era soltanto questa era da decidere cioè anche quello comunque da strutturare però c'era già in partenza c'era lo facciamo vedere o non lo facciamo vedere questione prima per quella che è la mia esperienza ti posso dire che sicuramente la manualità il contatto con la terra nelle diverse fasi dà al ragazzo al bambino innanzitutto una consapevolezza più ampia di quello che sta compiendo se il film cartone animato quello che deciderete di mettere sarà a conclusione del percorso ovviamente avrà un ruolo finale e in questo ambito il primo film che mi viene in mente può essere Microcosmos è un film francese sul sul popolo dell'erba quindi un concetto che noi forse in un certo qual modo non abbiamo più o meglio qualcuno per dire calpesta la formica senza neanche averla notata nel suo percorso questo potrebbe essere uno strumento per vedere in maniera più specifica e approfondita quello che è l'ambito altri o vado io no scusate altri questo è questo è il problema del adesso ci sono io altri sempre puoi dire devi dire se vuoi dire due parole insomma io non mi porrei il problema se proiettare o meno il cartone animato va benissimo perché comunque i bambini i ragazzi noi stessi viviamo con le immagini non possiamo evitarle o negarcele poi l'importante è che tutto sta nella mediazione del cartone e quindi dell'immagine e quindi il fatto che sia muto o non muto immagini movimento immagini statiche sta tutto poi a voi nella presentazione e nella mediazione il dubbio è venuto fuori dall'idea che il nostro progetto parte per portare lontani i bambini dalla tecnologia e dai mezzi di comunicazione quali la televisione che comunque sono usati in maniera abbondante nella quotidianità dei bambini quindi il nostro portarli nella terra era un scusate era un il punto forte del progetto in quanto loro in prima persona sono autenticamente interattivi nello spazio terreno e quindi questo è il primo obiettivo del progetto ovviamente la visione del cartone animato delle immagini la dovremmo fare al chiuso perché comunque servirebbe un proiettore uno spazio più buio e quindi tutto quanto cioè più una dal punto di vista ideologico insomma la visione del cartone animato delle immagini perché appunto noi portiamo i bambini nel terreno e poi magari li riportiamo nel loro habitat quotidiano che è il luogo chiuso e il cartone animato quindi quanto se noi li riportiamo vorremmo riportarli in un'altra direzione può essere utile il cartone animato è quello è quello che è quello che penso anch'io alla fine esatto sì quello sì ma quella è anche una mia è la mia opinione il cartone va benissimo non è stato uscito il cartone animato io sicuramente la bemaia è un'attività dell'ave insomma quindi va bene il cartone ma deve essere spiegato certo certo ovviamente ci sarebbe quindi il vostro ruolo sta in questo sì 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 non è il buon utilizzo della tecnica certo ovviamente no era un quesito che ci ponevamo in associazione se farlo vedere oppure no al chiuso se sì se no era giusto questo però ci sono stati degli spunti positivi passiamo di lì poi di là sì sì stavo dicendo in realtà è molto difficile perché innanzitutto non non ho capito l'età a occhi in cui si rivolge il il progetto appunto e poi secondo me effettivamente come diceva prima tu come ti chiami non mi ricordo più ma è là praticamente basta ricollocare cioè lo strumento poi che può essere qualsiasi cosa la fotografia un cartone animato un filmato muto nella giusta ricollocazione alla fine perché noi viviamo in una società in cui utilizziamo questi strumenti quindi vanno anche a supporto l'importante è il giusto il giusto equilibrio fra le due cose cioè il lavorare la terra quindi in un ambiente aperto con una ricollocazione dello stesso laboratorio in un ambiente chiuso con un altro strumento che ovviamente non prevede lo spazio aperto anche se secondo me anche all'aperto si può fare la visione del film poi dipende anche il periodo cioè poi ovviamente anche in base alle risorse che uno ha può allestirsi lo spazio o rendere uno spazio chiuso aperto nel senso che non è necessario obiettivamente cercare uno spazio chiuso ma potete pensare di fare qualunque attività al tramonto maggio giugno qualunque altra circostanza non necessariamente dovete pensare a un ambiente chiuso anzi meglio all'aperto grazie sto perdendo la voce allora su questo tema specifico la mia posizione è questa allora innanzitutto la domanda è spazio chiuso spazio aperto per me cioè l'ambiente se l'obiettivo anzi togliamo l'obiettivo spazio chiuso spazio aperto il tema è comunque un'attenzione agli aspetti della natura teniamolo così vasto voi fate attività all'aperto utilizzare o meno un cartone animato o un altro diciamo un video cinematografico che racconti la natura la mia posizione è che la natura è abbastanza cinematografica di per sé per cui un bambino è in grado di vedere microcosmos direttamente live ed è molto più interessante e che è vero che siamo in un'epoca e io ho fatto dei progetti anche sul digitale in un'epoca in cui il digitale entra ma non c'è scritto da nessuna parte che per forza o comunque debba entrare nel senso che se e io credo che la natura sia meravigliosa di suo nel bene e nel male nella sua forza nel suo e sia autodescrittiva cioè non abbia bisogno di un cinematografo per raccontarsi ma anzi la mediazione è più facile se mediazione deve starci live perché non ho solo la vista perché in natura live io ho tutti i sensi e un bambino i sensi li usa anzi impara cioè noi impariamo attraverso i sensi e un bambino impara ancora di più quindi un conto è guardare un film per cui sento vedo sento quello che mi vogliono far sentire vedo quello che mi vogliono far vedere un conto è sento vedo tocco odoro respiro affatico mi muovo quello che faccio io cioè quella è la mia esperienza è molto più totalizzante di una visione seduti davanti al buio di un filmato è vero che siamo cresciuti con i cartoni animati non è detto che siamo cresciuti meglio cioè non è detto che se non lo darei come assunto siamo cresciuti con i contaminanti quindi possiamo continuare e non sto dicendo che no ai cartoni animati sto dicendo che non sono necessari in ogni contesto divulgativo o di attività educativa e soprattutto una cosa che mi sento di dire che più o meno è stata accennata animali che parlano se succede utilizziamo un po' di senso critico per cui dire ma avete sentito mi sembra che quel cane abbia parlato stesse parlando in quel momento ma voi l'avete mai sentito un cane che parla nooo infatti i cani non parlano ma cosa hanno cosa hanno fatto qua cioè spiegare la realtà la realtà è più interessante o spiegare che comunicano in un altro modo i cani non parlano comunicano in un altro modo o i cavalli non parlano gli uccelli hanno un altro modo di dialogare non hanno la voce come la nostra cioè spiegare le differenze non c'è bisogno di costruire mondi alternativi questo è stato uno dei problemi anche costruire mondi alternativi al nostro cioè il nostro mondo è interessante è ricco da permetterci di scoprire tutti i suoi aspetti allora la scienza è una meraviglia la biologia la natura com'è fatta questa lumaca com'è che si muove le sue nomenclature o la rana com'è fatta vediamo come sono le ossa o la differenza rispetto a un altro proviamo a utilizzare degli strumenti vediamo che ci sono poi cioè fare educazione cosmica cioè insegnare come funziona il nostro cosmo anche questo fa parte e si può fare live più si fa live meglio è cioè utilizziamo la tecnologia quando serve utilizziamo la natura quando serve utilizziamo l'arte quando serve cioè è vero che non ci devono essere compartimenti stagni però ci sono secondo me vie più efficaci di altre perché perché sono più attrattive allora una cosa più attrattiva probabilmente muoverà più interesse sarà più specifica più individualizzata e creerà e creerà emozioni anche cioè un altro elemento che possiamo cominciare a introdurre è l'emozione l'emotività è una parte importante si parla proprio di intelligenza emotiva cioè l'intelligenza ormai stiamo arrivando a dire non è soltanto fare uno più uno l'intelligenza è stare nel mondo l'intelligenza è comprendere il mondo è comprendere noi stessi cioè è una cosa più complessa di quello che abbiamo pensato fino adesso e l'altra cosa che vorrei dire è che non mi sento di dire che esistono metodi particolarmente innovativi adesso non è un non parlerei di innovativi ma metodi altri cioè di innovativo veramente c'è poco qualcuno probabilmente l'ha già applicato con il buon senso allora è semplicemente muoversi e cercare anche ad esempio nei contesti come questo di ragionare su qual è il nostro perché facciamo questa cosa e qual è la via migliore per ciascuna persona che sarà coinvolta se è possibile tutto sommato è anche quella che costa di meno poi alla fine perché non hai bisogno del proiettore non hai bisogno di un'aula qualunque periodo dell'anno va bene perché la natura ti mostra la sua diversità nel tempo quindi qualunque tempo è sempre diverso e ti spiega che la natura è in cambiamento è in trasformazione allora ti racconta come noi cambiamo che ci sono dei cicli cioè ogni ogni processo può essere raccontato a partire da quello che viviamo allora sì dai farei uno scarto nel senso che affronterei più tardi Ken Robinson e Charles Lidbeader e introdurrei alcune cose per cominciare ad avere degli elementi che sono quelli che in questo momento mi stanno più a cuore su cui vorrei ragionare con voi cioè partirei dall'ambiente sul concetto di ambiente proprio e su una parola che ho voluto proprio selezionare perché è una parola su cui facciamo secondo me un po' di confusione cioè il concetto di ordine ordine e disciplina ordine dell'ambiente la gerarchia dell'ordine tutte queste cose connotano il termine ordine in chiave in positiva e negativa quando in realtà con un minimo di ragionamento possiamo pensare che ci sia un ordine nelle strutture nelle cose nel funzionamento delle cose e che sia l'ordine naturale delle cose e che quello è l'ordine che deve un po' guidarci nella costruzione di un ambiente educativo e adesso vediamo anche un po' cosa significa ambiente educativo e nelle pratiche della mediazione e quanto è difficile poi in realtà adattarci a questo cioè fermarci e dire qual è questo ordine però è questo che dobbiamo fare ho preso due citazioni la prima è di Dewey dice la vita si sviluppa in un ambiente non semplicemente in esso ma a causa di esso attraverso un'interazione con esso quindi c'è una sorta di trama tra ambiente e vita in questo caso dell'uomo i bambini nelle nostre scuole sono liberi ma non significa che non ci sia organizzazione l'organizzazione infatti necessaria se i bambini devono essere liberi di lavorare allora qui ci sono due termini che possono e che sono stati assieme a ordine causa anche di fraintendimento organizzazione lavoro ordine nel periodo storico in cui viveva anche Maria Montessori queste parole sono state prese a regime nel vero senso della parola perché erano parole molto utili a un sistema che era quello fascista perché portavano avanti degli ideali fortemente fascisti ordini inteso come disciplina organizzazione come verticismo lavoro bambini che lavorano in realtà e qui è sempre sul fraintendimento queste tre parole sono parole cruciali ma nei sensi opposti qui c'è un video qui c'è un video e che a che c'è un video Alla prossima Alla prossima Allora adesso vi chiedo Vi ho fatto vedere questo video Ma ce ne trovate tantissimi anche online Qui secondo me ci sono delle cose interessanti Altre cose che in realtà sono meno interessanti Vi chiedo di fare delle considerazioni Anzitutto su quello che avete visto Poi ci ragioniamo assieme A partire da quello che avete visto proprio banalmente Ha sempre il gelato ci vuole giusto Io ho notato particolarmente l'organizzazione dello spazio Cioè che sembra tutto a misura del bambino E che quindi lui può andare lì Prendere quello che vuole Senza chiedere niente a nessuno Cioè anche se io metto un puzzle Troppo alto per il bambino Già il bambino deve venire a chiedere Di prendergli il puzzle Invece così lui riesce a A prendersi i giochi E ad organizzarsi il suo gioco Parlo di spazio Io vi dite pure Io ho notato che Come diceva Marilena Nello spazio il bambino è reso autonomo Cioè ha la possibilità di muoversi come vuole Però mi rende triste I comandi Mi rendono tristi i comandi della mamma O non so l'educatrice Che in questo caso dava delle indicazioni al bambino Su quello che doveva fare Quindi c'è un contrasto Tra quello che il bambino è capace di fare da solo Però di conseguenza i comandi che gli vengono dati Anche il fatto di pulire il tavolo È una bella iniziativa Se fosse sua Invece gli viene detto di farlo Una cosa invece che ho notato io È il fatto che Quando rimette a posto Quando rimette a posto La vaschetta di legno Fa particolare attenzione A metterla abbastanza centrata Nello spazio in cui deve Non so se è di particolare importanza Sì sì Osservazione vuol dire che Quello che abbiamo osservato Lo diciamo Senza problemi Non c'è possibilità di errore Nel senso che si può sbagliare Io ho notato che ci sono tutti e tre gli elementi di cui parlavi prima Ordine, lavoro, organizzazione Apparentemente sembra libero Perché appunto è tutto posto Ad altezza del bambino Però Non sembrava proprio libero di muoversi Cioè quando appunto A riposto la tavoletta Sembrava guardarsi intorno Come a chiedersi se stava facendo bene E quando ha preso Il detersivo lì per pulire Sì sembrava contento Ma non sembrava proprio autentica L'espressione E anche mentre riponeva le palline Nella vaschetta Sembrava abbastanza meccanico Era un viso Dal quale non trasparivano tante emozioni Almeno quello era quello che mi Mi aveva colpito Io ho visto Sicuramente tutte le impressioni Che ci sono state Sono risperchiano Quelle che ho visto io E secondo me Appunto la performatività Che si è cercata Nel bambino Perché a un certo punto Lui stava Incominciava a giocarellare Con le palline E la madre ha detto Ok continuo Se non mi sbaglio Il bambino ha continuato Il fatto di metterla a posto Il bambino l'ha messa a posto E' una sequenza Che più o meno è corretta C'è l'educazione Che bisogna dare ai propri figli Però ovviamente Il fatto che Ci sia il sorriso In mente Oppure ci sia la chiacchierata Ci sia quello Non va a minimizzare il lavoro L'educazione Che gli viene data Ma ovviamente Serve al bambino A avere un'idea Un po' più generale Un po' più Più completa Di quello che sta facendo In quel momento Io quello che vedo È che comunque Cioè ok tutto Perfetto Però il bambino Ha coscienza Di quello che sta facendo Perché lo fa? Cioè È divertito Perché vede la mamma Che si diverte La mamma L'educatrice Che si diverte O perché realmente Lo vuole fare Cioè non gli viene dato spazio Probabilmente emotivo In questo contesto Che poi Non lo so Alla fine Sono pochi secondi Pochi minuti Però È quello che Insomma Mi chiedo Allora Diciamo che Il concetto In sé È bello Perché comunque Con il pesciolino Le biglie Lui vuole divertirsi Però come hanno detto Anche gli altri Il fatto che ci siano Questi comandi Sono un ostacolo Alla creatività Del bambino Perché Lo impediscono In un certo qual modo E lo si vede Dal fatto che comunque Lui diventa robotico Poi anche nel mettere Le biglie Nella vaschetta Insomma E quindi Ho notato questo E poi Secondo me Anche un po' Lo spazio In un certo qual modo L'ha frenato Quindi oltre l'ambiente E i comandi Cioè diciamo Che non si è divertito Alla fine È diventato Proprio Un gesto meccanico No È più o meno C'è tutto Molto impostato Anche Anche l'ambiente Che si vede dietro L'ordine Che c'è sicuramente Sarà una scuola Non so Però Credo sia una casa Onestamente Però ci sono tutte Sì o una casa Trasformata Non lo so Però Credo Per quello che L'ambiente dei bambini Che in genere Non è proprio Così ordinato Cioè i bambini Non hanno questa tendenza All'ordine Pensano più al divertimento Al fatto di andare A scoprire delle cose Da utilizzare Perché magari In quel momento Li attraggono Quello che abbiamo visto Sembrava tutto Molto Organizzato Anche nella mente Del bambino Cioè il fatto Che dovesse Prendere le palline In un certo modo Riporle nella vaschetta Sistemare Anche il vassoio Nello spazio Che gli era stato Assegnato Magari Però perfettamente Allineato Insomma è un po' Costrittivo In quello che è Il modo di vedere Il gioco Dei bambini Cioè loro sono Abituati a Giocare Ma non nell'ordine È puro divertimento Ok Altro Guardando il video Mi era venuto in mente Cioè assomigliava molto Ad una tecnica Che viene utilizzata Con bambini con autismo Che si chiama IBA Qualche anno fa Ho lavorato come terapista Con un bambino con autismo Proprio per Aiutare questi bambini Che sono Diciamo Confusi Dall'ambiente Non riescono A mettere ordine In Tutto quello Che vorrebbero fare Dire Si utilizza Una tecnica Che è praticamente Uguale Infatti Avevo il dubbio Che fosse quello Perché c'è il tavolino La sediolina I materiali Sono tutti vicini Si insegna Il bambino In maniera Meccanica A fare delle cose Ci sono degli obiettivi Dietro Adesso Insomma Troppo lungo A parlarne Però Inizialmente Quando ho iniziato A lavorare Come terapista EBA Ho avuto L'impressione Di forzare Il bambino Anche perché Magari il bambino Con autismo Inizialmente Ha delle reazioni Molto forti Dal punto di vista Anche comportamentale Motivo Nel rifiuto Di Eseguire Questi ordini Anche se hanno Una Diciamo Una funzione Ben specifica Quindi Mi sembrava Un po' quello Ok Eh no Ho visto Mi sono fermato Perché Sì Microfono A Domenico Allora Notato che Il bambino Trae piacere Dall'esperienza Sonora Delle sfere Raccolte E in scontro Nella ciotola Sì Adesso ci arriviamo Sì Grazie Sì Sì Assolutamente Vero Cosa che sono Secondo me Interessanti Altre che Sono Forvianti Allora La prima Forviante Diciamola Subito È evidente Che questo È un video Dimostrativo Quindi si sente Tutta una serie Di Comandi Che a noi Non interessano Nel senso Che E lo vedremo Man mano Soprattutto In In un certo Periodo Della vita Soprattutto Per i più Piccoli La Verbalizzazione Il parlare Non è così Determinante E Va contro Anche L'idea Che vi dicevo Di Confermare Con Una sorta Di incitamento L'azione Che sta svolgendo Il bimbo Però Vengo a rispondere A Il robotico E Il meccanicistico Nel senso Che Secondo me Sono due le cose Che Erano interessanti Che pur essendoci Quindi Tutto questo Ambiente Forviante A livello Di Ripresa video Ok Quindi Il fatto Che Non sia Contesto Di vita Pratica Normale Perché c'è Probabilmente O l'insegnante O la mamma Che sta riprendendo Il bambino Quindi Non è propriamente Cioè Nonostante Ci sono Degli elementi Di autenticità Che sono Se fate caso E Magari Lo rivediamo L'interesse Che il bambino pone Nel momento in cui Sta spostando La biglia Con uno strumento Che complica Quell'azione No? Le bacchette Rendono Quell'azione Estremamente Più complessa Rispetto Al movimento Fino Di Portare Un oggetto In un Una biglia Tra l'altro Scivolosa Da un posto In una ciotola Rende la sfida Interessante E quindi Lo vedete E magari Se non Vedete proprio L'interesse Che viene interrotto Dal comando Quando? Quando Come diceva Twitter In questo momento Trova un altro interesse Ed è il discorso Che si faceva prima Rispetto a Il fatto Che noi siamo Un insieme Di sensi E in quel caso Un punto di interesse Era la sonorità Cioè la biglia Quando cade Fa Ting Quello è un elemento Di interesse Cioè il Vetro su vetro Fa quel rumore Ancora più interessante Se ci metto la bacchetta E faccio roteare Quindi L'interesse In quel momento Si sposta E viene interrotto Da Chi In quel momento Era davanti al bambino La pulizia La pulizia Non ha alcun senso Perché Questa Attività Non sporca Allora Non c'è alcun ordine In questo senso Sarebbe ordinante Se Avesse fatto Un'attività Che implicava Sporcare L'ambiente E successivamente L'attività Fosse stata Quella di pulire L'ambiente Allora sarebbe stata Un'attività ordinante Così è semplicemente Un'attività Forviante Nel senso che Pulisce Perché bisogna far vedere Che dopo un'operazione Bisogna pulire Ma non ha Alcun senso Non ha alcun senso logico Quindi non stiamo In questo momento Dando delle informazioni Interessanti Cioè È un È meccanicistico È Veramente la crocchetta Non c'entra con Con quanto detto E fermiamoci qui Andiamo un po' avanti adesso Allora Montessori parla Di periodi sensitivi Cioè dice I periodi sensitivi Si riferiscono A fatti psichici Sono vibrazioni Spirituali Che preparano La coscienza Sono traslati Dall'osservazione Scientifica Della Montessori Che ha Un suo curriculum Scientifico Alle spalle Che li descrive Come energie Che partono Dal non esistente Per dar forma Agli elementi Fondamentali Che costruiranno Il futuro mondo Psichico Per dirla Per cominciare Un po' Anche a Chiarire Questo punto Cos'è Un periodo Psichico È come E lo racconta bene Una sorta di Luce Che in un determinato Periodo della vita Si accende Su Alcuni aspetti Del mondo E mette in ombra Altri Quindi in quel momento Il bambino È più interessato Ad esempio All'attività Che prevede Il movimento Perché sta rafforzando Tutti gli aspetti Del suo corpo È interessato A A trasportare Dei pesi È interessato A Costruire O è interessato Ad esempio All'ordine A riconoscere E ritrovare Dell'ordine Nelle cose Cioè Come una Veramente Una luce Che Accende Si accende Su determinati aspetti È interessato Al linguaggio E comincia A Seguire Solo Gli aspetti Che Lo aiutano Nel linguaggio È come un faro Che noi chiamiamo Poi interesse È un interesse Particolarmente Acceso Su determinati aspetti Che Sono fondanti Per la sua Costruzione Come Come essere umano E la cosa però Che È importante Da tenere presente Che I periodi Psichici Hanno un'apertura E una chiusura Quindi Si accende Questa luce In un determinato periodo E poi si spegne Ok E quindi L'abilità Di un educatore Soprattutto rispetto Al bambino piccolo È Riconoscerli Conoscerli E riconoscerli E quindi Favorire L'azione E la creazione Di un ambiente Piuttosto che un altro Rispetto allo sviluppo Del bambino Le prove Negative Che ostacolano Il tranquillo Sviluppo psichico All'interno Del periodo Sensitivo Dell'ordine Ne dimostrano L'esistenza Maria Montessori Elenca Diversi esempi Di casi In cui si producono Forme di isteria Invincibile Nel bambino Bloccato Nelle sue conquiste Creative Allora Le trovate Ad esempio Nel segreto Dell'infanzia Trovate svariati esempi Di queste Isterie Volevo aggiungere Una cosa Su Questo termine qua Conquiste creative No? Ed è L'aspetto Che noi Genericamente Attribuiamo Al concetto Di creativo Creativo Non implica Per forza Il termine Caotico Cioè Non è che Un aspetto Creativo È caotico E soprattutto Non è soltanto Creativo Il caotico Ma c'è creatività Anche in un contesto Ordinato Questo è importante Perché Ci aiuta A Riconsiderare Tutta la gamma Dei cosiddetti Laboratori creativi Cioè Se noi teniamo presente Che il bambino Ha Uno sviluppo Dei periodi sensibili Se noi Se noi teniamo presente Che l'ambiente Favorisce Lo sviluppo Attraverso I periodi sensibili E che Se riconosciamo Possiamo favorire Lo sviluppo Creativo Cioè Il far nascere Delle competenze Che non sono Soltanto Quelle Della capacità Immaginifica Strattiva O della creazione Espressiva Ma Che rispecchiano Anche la comprensione Cioè È creativo Anche L'aspetto Legato alla scienza Per dire No L'inventore È creativo Perché Inventa Scenari inediti Partendo Da principi di realtà Però Inventa Cioè Sporta L'immaginazione Partendo da principi di realtà È creativo Quindi creativo È un termine Che dobbiamo cominciare Un po' a Tirarlo E allargarlo Plasmarlo Rispetto a L'idea Che abbiamo Soltanto Dell'idea D'essere creativo Questo ci aiuta Perché comincia A rompere Un po' Quei confini Quegli argini Quei compartimenti Stagni Per cui Ad esempio Un laboratorio creativo È Soltanto espressivo Artistico Le commistioni Cioè La capacità Di Soprattutto anche Quei più grandi Di Di rendere Creativo Ed è legato Anche al concetto Di autonomia Poi Un laboratorio Anche scientifico È Fondamentale E questo Porta Poi L'idea Di divertimento Anche L'idea Di divertimento È È Legata Al principio Di interesse Cioè Se stimolo Il mio interesse Mi sto divertendo Cioè sto bene Cioè cos'è il divertimento Anche l'idea Di divertimento È Un'idea Che Dobbiamo Un attimo Su cui dobbiamo Ragionare Perché il concetto Di divertimento Non è soltanto La spensieratezza O Il fatto di Non aver pensiero Ma Implica Una partecipazione Un interesse Attiva Che Mi fa stare bene E mi appaga Mi appaga Quell'attività Mi sta appagando E quindi sono Divertito Anche Cioè Sono piacevolmente In sintonia In tutta La mia funzione E più avanti Vedremo anche L'idea Della concentrazione Come forma Di appagamento Il periodo sensitivo Dell'ordine Va da sei mesi E procede oltre Il secondo anno Di vita La Montessori Notò che Quando un bambino Dava segnali Di requetudine Spesso quel disturbo Psichico Era una reazione A qualcosa Fuori posto Il bambino Già dall'anno e mezzo Soffre infatti A vivere nel disordine E manifesta Il malessere Con pianto Agitazione Fino a sfociare Nel capriccio Quindi Cominciamo A Riconsiderare Ad esempio Il concetto Di ordine E disordine Rispetto al bambino Non è propriamente Vero Che il bambino È disordinato E sta bene Nel disordine Non era quello Che dicevi Ma non è Certo In realtà È uno stress Il disordine E vedremo Cosa intendiamo Poi per ordine Anche però Un ambiente ordinato Nei primi anni di vita È fondamentale Perché il bambino È in una fase In cui sta costruendo Il suo ordine mentale Imitando Imitando quello ambientale Quindi Aiuta A comprendere E A Mettere Ordine Rispetto A quello Che vedrà E imparerà Nel mondo Per cui Se Lo facilitiamo In questo Sarà meno Stressante Per lui Allora Iniziamo Con le due macro Categorie Ordine esterno Si tratta Dell'ordine Relativo ai rapporti Tra le parti Dell'ambiente Ed esterne All'individuo Quindi Quello che noi Comunemente Identifichiamo Come un ambiente Ordinato Disordinato L'esterno Rispetto A me Poi c'è Un ordine interno È un orientamento Interno Significa Per il piccolo Avere il controllo Delle parti Del corpo Che agiscono Sui movimenti Banalmente Cioè sta mettendo Ordine anche Su come muovere Se stesso È un periodo In cui Fa delle conquiste Straordinarie Noi le diamo Per scontate Perché ormai Noi le abbiamo acquisite Il movimento Chi più chi meno E poi Chi meglio E chi peggio Ma Sono conquiste Il linguaggio Cioè è Veramente In un periodo Di grandi conquiste Creative A partire Da L'ordine interno Dal suo orientamento Interno Cioè Muovere bene Le mani Orientarle bene Manualità fine Quella grossa Ragionare su Come muoversi Correre Cadere L'equilibrio Quindi L'ordine Soprattutto Nei primi anni Di vita Non è soltanto Una questione Ambientale Esterna Ma anche interna E queste due cose Sono osmotiche Cioè In qualche modo Continuano a Dialogare Stiamo parlando Della memoria Muscolare Si tratta Di un senso Muscolare Che permette Di rendersi conto Della posizione Delle varie membra E fissarle In questa particolare Memoria Il bambino Dimostra di avere Un periodo sensitivo Molto precoce Rispetto all'orientamento Del suo corpo Un'attenzione speciale Per attitudini E posizioni Delle membra Quindi Sta Facendo un grande lavoro Ordine temporale Si tratta Di azioni Abitudinari E rituali Che si verificano In una sequenza Lineare Prestabilita Vediamo cosa significa C'è un macro livello Di organizzazione Della giornata Dove il bambino Entra Esce Mangia Orari prestabiliti E un livello Più strutturato Di micro routine Durante le quali Il bambino lavora Con i materiali Di sviluppo E di vita pratica Seguendo un ordine Temporale Legato alle sue esigenze Adesso Chiarisco Cosa significa Tutta la pappardella Ogni volta Qui stiamo Vedendo Nello specifico Alcuni aspetti Legati a Ad esempio Un nido Montessori Perché poi Questi principi Possono essere utili Anche a livello Di macrocosmo Ogni volta Che la maestra Introduce Un materiale Nuovo Nella stanza Andrà a presentarlo Seguendo Le indicazioni Performative Di silenzio Pulizia Essenzialità E lentezza Dei movimenti Queste sono La maestra Quando presenta Il materiale Montessori Dice Nel segreto Dell'infanzia Più un esercizio Era insegnato Con esattezza Di particolari Nell'esecuzione E più sembrava diventare Stimolo A una ripetizione Inesauribile Allora Chi ha avuto Modo di lavorare Con i bambini piccoli Avrà visto Quanto Un bambino Ripeta Continuamente Dei gesti Ad esempio Delle azioni Che per noi Magari sono banali Fino a quando Non l'ha interiorizzata Fino a quando Non l'ha perfezionata E da dove le prende Questi gesti Banalmente Li prende Da Dagli stimoli Che gli vengono Dall'esterno Quindi Cosa significa Che Più uno stimolo È Preciso Più Apprenderà Quel movimento Ad esempio In maniera precisa Cercherà di Andarlo a ripetere In maniera precisa Questo perché Effettivamente Uno degli aspetti Dell'uomo È La capacità Di imparare Imitando Quindi noi Imitiamo E impariamo Imitando Allora questa cosa È Estremamente Interessante Se noi la portiamo Anche Avanti Negli anni Perché significa Che copiare Ci fa Bene E vedete Che questa cosa Non ci è stata Tanto insegnata Nel senso che Copiare è un sotterfugio A livello di apprendimento In realtà Saper copiare bene È Una grande capacità E Forse vedremo Più avanti In un video Su Gata Mitra Che dice Gran parte Dell'innovazione Scientifica Si fa copiando Cioè Guardando quello Che fanno gli altri Prendendo Quello che c'è utile E Innovando A partire da quello Quindi L'imitazione È veramente importante E allora Diventa ancora più importante Che l'insegnante La maestra Il maestro Facciano attenzione A tutti gli aspetti Che Sottendono Al concetto Di imitazione Perché lui Sta guardando Completamente Chi sono io E come mi muovo E come parlo Come mi relaziono Non sta seguendo Le mie parole Sta guardando Quello che faccio Soprattutto agli inizi Quindi Non saranno tanto Le parole A muoverlo Ma sarà interessato A La ritualità Dei gesti E più saranno precisi Più saranno Lenti E Puliti Essenziali Cosa significa Essenziali Che Noi facciamo le cose Ormai a due mani No? Diamo per scontato Veloce Un bambino Agli inizi Impara Ogni singolo movimento Che è utile Per fare Quell'azione E quindi Ogni singolo movimento Essenziale Va fatto vedere In maniera molto precisa Se è essenziale Se non è essenziale Sporca Semplicemente La nostra Presentazione Di quell'attività Forse adesso C'è un video No Più avanti Però voglio andare a un video Chiriamo Qui empty L' Gone Più avanti Più avanti Mi Allora, facciamo come prima, quindi osservazione di quello che abbiamo visto. Allora, io piace intervenire perché è simile al parallelo che faccio quando insegno la somestisi, quindi la conoscenza del proprio corpo al cane e la cinestisi, quindi la conoscenza del movimento. E noto molto bene che, come dicevi all'inizio, il bambino ha una rappresentazione, quindi sa come prendere l'oggetto e inserirlo, però a volte va oltre anche la barretta di legno, quindi una vera e propria coordinazione la deve ancora acquisire, quindi sicuramente questo gioco evolutivo serve molto ad aumentare la coordinazione del movimento. E ovviamente, secondo me, gli è stato molto utile l'educatore nel fargli vedere come si fa e come collocare al giusto posto i giusti cilindri. E già l'approccio della madre è diverso perché è intervenito alla fine, non ha stoppato la bambina mentre sbagliava, quindi gli ha fatto provare tante volte i vari iconi, è abbastanza anche divertente, e l'ha gratificata alla fine, quindi gli ha fatto delle mega feste quando è riuscita a risolvere il problema che gli era stato presentato. E la bambina, un'altra cosa che ho notato, ha cercato poco mediazione con la madre, quando si trovava in difficoltà non guardava la madre per una mediazione, ma ero ostinata a riuscire a risolvere il problema. In quest'altro video mi sono piaciute due cose che anche la ragazza non ricorda, Michele ha sottolineato. Il fatto che lei comunque è determinata, quindi tenta, ritenta, anche quando sbaglia, però alla fine inserisce e raggiunge il suo obiettivo. E alla fine quando è felice e esulta del lavoro che ha portato a termine. Condivido tutto, a me piace anche il fatto che lei, anche quando va quasi sicura su quello che deve fare, però gli piace provare se c'è anche un'altra possibilità. C'è una bimba veramente aperta, autonoma, indipendente, e l'altra cosa anche da sottolineare, è vero che la mamma esulta alla fine, si sente la voce brava, però a lei non più di tanto mi sembra che le ne importasse. Cioè lei è soddisfatta da sola ad aver riempito tutti gli spazi, adesso prende e porta a posto. Dice questa cosa l'ho fatta. Cioè è completamente indipendente da qualunque stimolo della mamma o di chi per lei. Penso neanche, forse, che neanche qualcuno le abbia proprio insegnato a metterli dentro. Avrà semplicemente visto che quell'affare deve andare dentro, però poi se li sceglie lei. Adesso vi spiego. Ma ha già la percezione del grande, del piccolo. Perdonatemi ma vado un attimo contro tendenza. Secondo me l'ha fatta 10.000 volte e ha perso ogni stimolo per quella che è il piacere di risolvere quel tipo di gioco. Ad esempio il primo che mette è il più grande perché sa già che parte... Ha un ordine mentale, già in un certo qual modo l'ha acquisito nel ripetere l'esercizio. Quindi a mio avviso non è il piacere che è a chi ha la mamma. Forse un po'... Perdonatemi, la socio è come il criceto con la ruota in un certo qual modo. Allora, io ho frequentato un master in mediazione museale a Roma 3. A Roma 3 c'è proprio il dipartimento di studi montessoriani, dove c'è una parte della collezione originale dei giocattoli della Montessori. Insomma, se giocattoli così si possono definire. E durante una lezione ci hanno posto di fronte proprio questi strumenti su un tavolo. E io davanti a questa esercitazione io ho fatto le stesse cose che ha fatto questa bambina. Perché mi è stato posto proprio così di fronte e mi hanno lasciata lì da sola. Allora io ho tolto ad uno ad uno ogni cilindro e poi l'ho rimesso all'interno. Insomma, questa è la mia esperienza. Questo è quello che posso dire, insomma. Poi il resto lo direi tu. Allora, premessa. Prima non ho completato una slide che era relativa alla presentazione. Cioè, cominciamo a dare alcune piccole. Non è un corso montessorio questo. Noi stiamo vedendo solo alcune nozioni che ci possono essere utili. La presentazione, e ripeto, stiamo in questo momento ragionando su bambini piccoli. La presentazione di un materiale come questo, poi vi chiederò a cosa serve un materiale come questo. Nel senso che una delle caratteristiche del materiale è che isola una qualità specifica. Quindi c'è un ordine anche in questo, nella costruzione di un materiale. Quindi si isola una qualità in modo tale che venga compresa questa astrazione in maniera concreta, sia materializzata. La presentazione avviene per la prima volta senza parole, mostrando come una sorta di rito come funziona il materiale. Quindi si tolgono i cilindretti, si poggiano con molta calma davanti e si fanno vedere come fosse una sorta di ascensore, mettendo molta attenzione anche nell'aspetto performativo, come si incastra perfettamente. Come avrete notato, una delle caratteristiche di questo materiale è che è autocorrettivo. Quindi se nessuno interviene, quello che ci si augura è che poi, pian piano, a forza di sbagliare, si vada a trovare la giusta collocazione. Rispetto a, nuovamente, l'idea dell'essere automatico, o che l'ha provato tante volte, Allora, la premessa è che il fatto che l'abbia provato tante volte per un bambino piccolo non è un grosso problema. In realtà, questi materiali che vedete sono disposti in un'aula, c'è una copia per ogni materiale. Il materiale viene man mano aggiornato rispetto all'evoluzione anche della classe. Quindi si inizia con un certo materiale e poi man mano se ne toglie e se ne aggiunge dell'altro. Di ogni materiale c'è una copia soltanto. Quindi se Giorgina sta utilizzando questo materiale, Matteo aspetta il tempo di Giorgina, quindi che Giorgina finisca di usarlo e può usarlo tutto il tempo che vuole, quando è stanca di usare questo materiale, lo ripone al suo posto. E a quel punto Matteo può prenderlo e andare a utilizzarlo. Aggiungo che ogni materiale, gran parte del materiale, ha delle variazioni. Cioè una sorta di complicazione man mano che un procedimento viene appreso. Nel momento in cui la maestra si accorge che non viene più utilizzato quel materiale, perché il bambino sceglie autonomamente il materiale, cioè non ci sono banchi, non c'è niente, ci sono magari dei tappetini che il bambino va a prendere, impara a mettere a terra e lavora a terra con il materiale che seleziona. Quindi la scelta è autonoma rispetto al materiale, quindi se quel giorno Giorgina vuole farsi una otto ore di incastri, può farlo. Non succede chiaramente di farsi otto ore di incastri, anche perché spero che qualcuno la venga a portare a casa prima o poi, la creatura. Però può farlo, cioè prende il suo tempo, prende il suo spazio e nel momento in cui ho presentato il materiale, vedo che Giorgina comincia a sperimentare il suo materiale, lascio fare. Intervengo quando? Se vedo che, ad esempio, non è compreso il senso del materiale, cioè siccome il materiale isola una qualità, questo non serve per lanciarlo. O se stiamo verificando, possiamo anche dire che se vedo che è particolarmente attratta dal fatto che produce un suono, gli presento un materiale che è pensato per quello magari anche. Cioè, faccio delle considerazioni, invece di dire dei no, faccio delle alternative. Non mi ricordo più, ma c'era un altro video, questo qua forse. Devo aver perso un video nel... Era particolarmente efficace, però vabbè. Allora, torniamo un po' indietro. Ok, ordine spaziale. Riguarda l'organizzazione dell'ambiente spaziale. Questa deve seguire una strutturazione logica e rispecchiare l'ordine cosmico. Ogni materiale non presenta elementi ridondanti e superflui e, come già detto, deve risultare attrattivo a partire dalla superficie, il colore e la sua composizione naturale. Allora, qui stiamo parlando e del macroambiente, quindi dell'architettura, e di quello che c'è dentro l'architettura. Quindi, a livello di macroambiente, dobbiamo cominciare a pensare che un ambiente educativo, soprattutto per i più piccoli, non è detto che per forza sia un ambiente con il blu, il viola e il giallo sparati dappertutto, non è detto che abbia Pluto, Topolino e Minni alle finestre, e non è detto che invece un ambiente più simile ha la propria casa, cioè ha una struttura pensata per essere ospitale, come dovrebbe essere una casa, non sia più adatto. nel senso che un ambiente è un ambiente pensato per una funzione, cioè il viverci. E anche, ad esempio, un ambiente educativo deve essere un ambiente in cui ci si sta bene innanzitutto. Quindi, attenzioni ai materiali, attenzioni chiaramente alla luminosità, al fatto che, soprattutto in questo caso rispetto al Montessori, che il bambino possa fare e agire tutto lo spazio, quindi se c'è uno spazio dove non può andare, è uno spazio sbagliato, se è pensato perché lui ci vada. Cioè, se c'è uno spazio che ci sono cose che lui non deve toccare, è uno spazio che non funziona. Deve essere uno spazio completamente agito, quindi praticabile. Una delle caratteristiche che, ad esempio, può darci l'idea è il momento in cui si mangia. Quando si mangia, si attrezza la mensa, si attrezza la mensa, lo spazio adeguato, se no si attrezza l'aula per mangiare, e i bambini, quelli più grandi, chiaramente, che sono in grado di farlo, quindi che camminano, che hanno già una mobilità, preparano lo spazio per mangiare. E lo spazio per mangiare è uno spazio dove non ci sono piatti di plastica, dove non ci sono bicchieri di plastica, ma dove ci sono bicchieri di vetro, dove ci sono piatti di ceramica, che si rompono e ti dicono se cado, mi rompo. Cioè, un ambiente in cui anche l'errore è previsto. E vi assicuro che nel momento in cui un piatto si rompe, l'informazione è molto chiara. Poi, abbiamo detto, quindi, colore e superficie, colore, consiglio ovviamente, è di non accecare queste povere creature con le nostre fantesie più oscure, e cosa che peraltro è assai diffusa, ma di pensare a un ambiente piacevole in cui passare delle ore della giornata. Soprattutto il fatto che se, ad esempio, si lavora a terra e il pavimento è parte integrante del vivere, sia confortevole, e sia magari, ad esempio, il legno, o quantomeno delle superfici che non distraggono particolarmente dall'attività che sta svolgendo in quel momento. Allora, dice, sempre nel segreto dell'infanzia, allora compresi che nell'ambiente del bambino tutto deve essere misurato, oltre che ordinato, e che dall'eliminazione di confusione e di superfluità nascono appunto l'interesse e la concentrazione. Allora, perché sto facendo questa premessa? Perché poi questo ci è utile proprio per non cadere troppo negli stereotipi del divertimento e del fanciullesco, ma proprio per ragionare in termini di umanità rispetto ai bambini, quindi sul fatto che sono persone e che hanno uno sviluppo mentre che noi li incontriamo e che il loro sviluppo è altrettanto gratificante se fanno esperienze utili. E le esperienze utili sono più facili se costruisco degli ambienti che sono misurati e ordinati che eliminano già tutto quello che non è necessario e che in sostanza prende e anticipa l'idea di quello che il design buono ci ha insegnato. Cioè una cosa è funzionale quando sono arrivato a capire qual è la funzione dell'oggetto che sto creando e ho tutti gli elementi necessari a far funzionare al meglio quell'oggetto ad esempio. E che un ambiente ordinato ci permette di far crescere l'interesse e la concentrazione. Ordine sonoro. ecco questo è un altro tema interessante noi pensiamo all'ordine sempre e soltanto legato a disporre le cose in maniera che abbiano una loro posizione chiara. Ad esempio una palla è sempre ordinata non c'è una posizione per la palla se non quella di stare e muoversi cosa significa ordine che abbia il senso della cosa cioè una palla ha una posizione quella che è quella quella di stare e di muoversi e la palla è in forma del movimento perché è così attrattiva perché ci insegna il movimento perché ci insegna la direzione ci insegna la possibilità di dare una direzione al movimento ci raffina su questo quindi è sempre uno stimolo e una sfida anche ad arrivare ai calciatori cioè riuscire a indirizzare la palla sotto il 7 o riuscire a portare la palla attraverso una serie di passaggi senza che l'altro riesca a prenderla quindi è una sfida anche l'ordine sonoro è ordine ed è importante nel senso che laddove c'è confusione è più difficile ottenere dei risultati quindi riguarda l'organizzazione del rumore il facilitare la concentrazione attraverso un'adeguata attenzione al silenzio molte ricerche hanno dimostrato quanto sia più difficile tenere viva la concentrazione in un ambiente rumoroso questo è anche dovuto al fatto che un ambiente caotico non può essere organizzato la maestra Montessori usa poche parole con tono molto basso andando a caratterizzare l'ambiente sonoro per calma concentrazione di fondo allora non è reprimere vorrei che questo fosse chiaro nel senso che i bambini se devono come diciamo sfogarsi hanno tutto il loro spazio cioè lo spazio del giardino lo spazio all'aria aperta uno spazio dove si corre dove ci si arrampica è uno spazio pensato per quello e a livello temporale spaziale e sonoro deve essere chiaramente organizzato se pensiamo una struttura che prevede di tenere per un periodo lungo i bambini l'interno è organizzato perché ci sia il movimento ma diverso cioè selezioniamo anche le tipologie di movimento ordiniamo anche le tipologie di movimento e anche le tipologie di interazione cioè come abbiamo detto è la maestra o il maestro che è esempio se la maestra urla il bambino urla cioè piano piano impara che quello è lo strumento di interazione se la maestra quando presenta un materiale usa poche parole e sono parole affascinanti e vendette e con un tono adeguato il bambino comprende che quello è il modo e quindi è facilitante poi l'interazione di più bambini che si muovono che possono essere caotici nel movimento perché qualcuno poi un po' inciampa stanno facendo le loro prove i nostri bambini impararono a muoversi tra le cose senza urtarle a correre leggermente senza rumore diventando accorti agili cioè anche l'apprendere ad esempio questa è carina a correre leggermente senza rumore diversi tipi di corsa cioè si può correre ma leggermente senza rumore ed è una sorta di variazione della corsa non è meno stimolante è un altro tipo perché poi la corsa quella con impeto la puoi fare in giardino puoi provare tutte le tue forze arrampicandoti cadendo ed è una variazione è una sorta di educazione ai toni ci sono varie gradazioni il forte il lento insomma proprio a livello anche musicale ordine mentale quest'ultimo riguarda la capacità della mente di auto-organizzarsi un ordine che è strettamente connesso lo sviluppo sensoriale dei primi anni di vita l'organizzazione di una mappa mentale procede reperendo tra le sue coordinate gli stimoli sensoriali e accostandoli fino ad ottenere deduzioni quindi stiamo sempre parlando dei bambini piccoli ma ci sono utili per comprendere chi siamo perché è da qui che poi costruiamo tutto il resto anche l'ordine mentale si forma come avevamo detto in origine dall'insieme di tutte queste coordinate cioè dall'ordine sonoro temporale il fatto di avere una sorta di ritualità non è vero che i bambini sono anti rituali anzi hanno i loro rituali e non è omologazione in questo caso sta chiaramente a chi in quel momento è maestro o maestra comprendere le varie variazioni le tipologie è uno strumento che ci consente di andare a meglio definire il progetto di ognuno se ognuno sceglie ognuno sviluppa le sue competenze in base al suo sviluppo sensitivo e io non sto facendo lezione a una classe ma sono lì per chi si sta muovendo posso intervenire in un'occasione come nell'altra o non intervenire quindi ho più possibilità di indirizzare meglio la la mia attenzione siccome ho ho presente che ci possono essere delle perplessità nel pomeriggio vedremo come in realtà questi principi Montessori viaggiò molto quindi portò il metodo dall'India in America in Olanda in Inghilterra e così via quindi diffuse a livello globale una globalizzatrice più all'estero alla fine che in Italia e vi presento e magari facciamo anche un'attività se ci riusciamo un come la Montessori proprio a livello anche scientifico abbia influenzato lo sviluppo di una sorta di metodo che è più confacente al nostro stereotipo di divertimento cioè lo sviluppo di un gioco però partendo da presupposti che sono assolutamente montessoriani cioè questi presupposti che noi leggiamo come che ci possono sembrare e poi vi consiglio di visitare delle scuole per farvi un'idea personale un'esperienza personale di quello che brevemente vi illustro però quello che a prima vista può sembrare estremamente ordinante è in realtà uno strumento di grande autonomia e libertà nel senso che consente poi lo sviluppo individuale e parte dallo sviluppo individuale per arrivare a quello sociale perché come forse potremmo intuire nei primi anni di vita il bambino non ha un interesse sociale perché sta sviluppando se stesso è autocentrato chi ha l'esperienza di bambini questo lo sa cioè il bambino si sviluppa a danno dell'ambiente cioè è un consumatore dell'ambiente ma per sé costruisce il sé e comprende il mio comprende il sé quindi è inutile fare attività sociali con i bambini piccoli perché poi l'attività sociale va fatta dopo quando è definito il sé e quando l'autonomia è ben chiara e a quel punto interviene l'aspetto sociale aggiungo alcune cose che potrebbe che sono poi quelli che sono i fraintendimenti e poi facciamo la pausa se no moriamo aspetti sociali che sono evidenti comunque anche in questa fase cioè il fatto che Luigino debba aspettare che Francesca finisca la sua attività con quel materiale è attività sociale cioè spiega che una volta che ha finito Francesca lui potrà usare quel materiale perché di quel materiale ce n'è una copia sola l'abbondanza di materiale non è quasi mai utile cioè il fatto di avere 50 forbici 60 fogli colorati perché è spreco è un incentivo al consumo è un incentivo all'idea che consumare è un'azione normale giusta e non è una riflessione su quello che sto facendo in un contesto quindi riuscire a comunicare questa cosa è possibile in maniera molto chiara e semplice pochi materiali e si cerca di pochi materiali ma diversificati perché deve esserci un'alternativa intanto che Michelino fa quello tu puoi vieni che ti faccia vedere un altro materiale o puoi fare quest'altra attività quando avrai finito potrai farlo anche tu e viceversa nel senso che ci sono tanti stimoli ce ne sono per tutti ma tutti diversi quindi se tu vuoi proprio quello devi aspettare e un'altra cosa è che le età sono diverse cioè i gruppi sono plurietà non c'è tutti un anno tutti due tutti tre tutti quattro tutti cinque tutti sei questo perché si impara meglio da un pari perché innanzitutto è più prossimo ad averlo appreso e poi c'è un'attenzione maggiore perché siamo sullo stesso livello anche a livello visivo siamo uguali quasi quindi è più facile e quindi il fatto che Samantha di quattro anni mi mostri o mi aiuti in un'azione nell'uso di un materiale mi mostri come si fa a servire la minestra nel piatto o a portare la minestra che è un'azione complicatissima anche per gli adulti portare un piatto pieno di minestra a tavola senza rovesciare assolutamente attrattivo cioè sono piccole cose che sono assolutamente attrattive ecco perché e ritorno al discorso della natura dobbiamo riconsiderare l'attrazione delle piccole cose che in realtà non sono piccole cioè la natura a terra è un patrimonio e cento metri di passeggiata con un bambino anche se ha sei anni non ne ha cinque più o meno di cinque è il mondo perché vede di tutto e quindi c'è di tutto ma è assolutamente stimolante e il dentro il fuori sono in osmosi laddove è possibile cioè anche uscire ad esempio da quest'aula chissà che magari oggi pomeriggio si possa anche fare che ce ne usciamo può essere è senza po' è fondamentale perché fuori c'è un altro ambiente come è ordinato quello dentro quello fuori è ordinato uguale perché non possiamo non dire che in natura non ci sia un ordine in natura c'è un ordine c'è un ordine c'è un principio che segue la nascita di una pianta c'è un principio che segue il cadere una pianta c'è un principio il fatto che un animale mangi un altro o che un animale fugga un altro ed è quello il principio che ci interessa è comprendere il funzionamento è l'ordine delle cose perché ci aiuta alla comprensione quindi il riuscire a vedere il sistema ordinato e l'uomo lo fa sempre riordina in ogni caso quello che vede se potesse in un cielo stellato metterebbe dalla più piccola alla più grande cerca di ordinare tutto perché se non ordina non capisce non capisce senza un suo ordine non capisce non riesce a ricostruire l'uomo ricostruisce costruisce continuamente quindi aiutare quest'ordine aiuta anche lo sviluppo della creatività poi vedremo perché basta adesso però un microdo più due e mezza giusto? buon pranzo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti